e allora buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti che poi in settimana commenteremo anche milan celsi devastate di mi piace questo video e ne esigo 10.000 seguitemi sui social e guardate i video fatti specialmente la live di ieri che poi ci ritorniamo signori recuperate tutto piccola prece piccola parentesi prima di iniziare vi starete chiedendo perché non ho commentato sassuolo inter perché ho preso sonno perché ho fatto la pennica e ho dormito come come uno stronzo va bene mi sono svegliato che era il 74 75 esimo non me la sentivo di fingere di aver visto la partita di prendervi in giro capito o di stare qui a ravanarmi i coglioni a commentare una partita che non avevo visto ma anche lì recupereremo per l'inter in settimana commentando la champions league però ho visto ovviamente milan juventus e cosa ho visto ho visto una partita e adesso i milanisti lo devono dire se no mi incazzo va bene esigo un tripudio è stata una partita che per me è stata ha rappresentato una piccola gioconda tattica di fare calcio milaniera del sottoscritto è no perché vi ho portato tonali va bene illo tempore vi ho fomentato con il fondo elliot e vi ho anche fatto uscire dalle pastoie tattiche in cui questo milan si stava infilando e con del piolismo oggi recettivo hashtag piolismo recettivo ragazzi un piolismo di fascino e adeguamento un piolismo da canile e perché piolismo da canile perché venendo nel canile il buon sior pioli il sior pioli era anche ora va detto perché è da anni che mi sto sgolando su sto cazzo di albero di natale il milan quest'oggi pioli ci ha voluto fare la sorpresa ci ha voluto regalare questa scatola di cioccolatini diciamo si è svegliato in preda al cattianesimo dei più fulminanti e che cosa ti ha piazzato in campo l'albero di natale e con chi con tommaso pobega con del pogebismo con del pogebismo con anche poi la possibilità di far entrare franks ok milan che vince con l'albero di natale e noi nella live di ieri abbiamo fatto un master calcistico su questo discorso del milan che deve affiancare al 4 2 3 1 la possibilità di dotarsi dell'albero di natale oggi viene fatto e il milan porta a casa una vittoria importantissima e infligge alla juventus una sconfitta importante una sconfitta grave e poi alla juventus ci veniamo discorso all'albero di natale che nella live di ieri che se adesso siete uomini e se mi volete bene stasera voi non guardate la partita che c'è dopo vi pigliate le cuffiette andate nella live che c'è prima di questo video e vi ascoltate il master di fare calcio con cui vi ho irrorato ieri inerente al milan discorso sull'albero di natale che ho fatto anche sulla roma ma quest'oggi parliamo di milan e juventus oltre modo attenzione non ho neanche visto un milan trascendentale cioè non ho visto un milan che oggi ha sfoderato la prestazione della vita un milan intenso un milan che ha corso a 300 all'ora o che ha pressato a ritmi forse nati o che ha messo in campo una qualità devastante ho visto un milan che ha giocato come se davanti ci fosse una squadretta per larghissimi tratti della partita milan che è partito anche un po diesel perché nei primi 15 20 minuti il milan doveva un po trovare le distanze di questo nuovo modulo la juve era scesa in campo con un piglio decente i primi 15 20 minuti si era anche vista una juventus che aveva sfruttato le inerzie inerzie che erano pericolose quest'oggi per il milan e attenzione alle inerzie attenzione perché questo cambio di modulo qui pioli è stato coraggioso e bravo a farlo quest'oggi perché altrimenti arrivare a sta partita con il 4 2 3 1 col fomento che la juve si portava dietro perché aveva vinto contro il bologna e il maccabi haifa che anche lì parliamo ma comunque sto fomento c'era capito era pericoloso il milan aveva perso col celsi invece tu facendo l'albero di natale hai anche rimescolato le carte delle inerzie hai anche rimescolato le carte delle inerzie capito e questa è stata una cosa molto valida la juve i primi 10 15 18 20 minuti era in partita era una juve scolastica però una juve anche che accennava un po di pressing una juve veloce una juve che cercava di mordere il milan ha iniziato un po diesel per questo discorso anche per questo discorso di dover trovare le distanze poi dopo 15 20 minuti la juve è totalmente sparita la juve ha fatto un secondo tempo aberrante aberrante la ju milan juventus milan juventus nel secondo tempo è sembrata una partita tra il milan e una neopromossa che veniva a san siro primi 15 minuti partita discreta della juve buon inizio dal 15 20esimo in poi il milan ha iniziato a scavallare iniziato a correre iniziato a pressare iniziato a svegliarsi iniziato a risvegliare la muscolatura pressatoria dal secondo dall'inizio del secondo tempo a fine partita poi c'è stato un periodo dopo il 2 a 0 nel quale il milan ha gestito e la juve ha tentato qualcosa con che ama l'inerzia della gara era già chiara ma da inizio secondo tempo al 2 a 0 del milan la juve è sembrata una neopromossa anche il discorso di allegri con sto 4 4 2 per me ha rotto le palle cioè la juve non è una squadra che può trovare nel 4 4 2 la sua inerzia del campionato ma lo diciamo da anni questa cosa qui e poi anche i cambi che ha fatto poi a gara in corsa per cercare di passare al 4 3 3 non mettendo attaccanti ma mettendo centrocampisti mettendo un miretti spaesato la partita di tanti singoli vogliamo parlare della partita di locatelli vogliamo parlare della partita di rabbio vogliamo parlare di vlaovic anche milico oggi male vogliamo entrare di paredes che è già è già è già è già messa in discussione la sua titolarità e non venitemi a parlare di di maria perché per carità magari con di mari con un di maria in campo i primi 10 15 minuti potevi essere più incisivo e sfruttare quell'onda ma è stata proprio tutta la partita che contro milan ripeto neanche trascendentale la juve era giù è stata giù in un sacco per tutta la partita e questa è una sconfitta grave grave perché avevi un'inerzia positiva da sto rimbalzo di due partite oggi potevi non dico ritornare in gioco però quantomeno avere un nuovo slancio in un big match un milan che aveva perso contro il celsi un milan con le assenze e tu vai qui e fai questa prestazione del genere che poi denuncia ripeto un nulla tecnico tattico ma soprattutto tattico che alla juventus e spesso anche alla roma vedi c'è squadre che iniziano a fare bene 5 10 minuti poi quando finisce la birra quando finisce la lucidità individuale e gioco forza deve subentrare la tattica le idee di gioco le triangolazioni i movimenti senza palla il pressing e la continuità nel pressing cala tutto giù in un sacco cala tutto giù in un sacco il milano l'ho visto trascendentale vi ripeto perché un milano comunque che paga le assenze paga il fatto che tanti interpreti giocano tanto tempo da tanto tempo penso a girù ma ce ne sono anche altri però un milan sufficiente un milan attento un milan discreto ok basta in questo momento a batterla juve e poteva fare anche più gol il milan poteva fare anche più gol il milan è quest'oggi poteva fare anche più gol questo questa introduzione del modulo oggi se voi andate a dare i voti date un bel sette a pioli se siete milanisti perché questa è una cosa importante anche perché il calcio mercato che hai fatto con vranx ad li pobega che è rimasto ti chiama da sé l'albero di natale te lo chiama te lo chiama assolutamente bravo pioli meglio tardi che mai meglio tardi che mai però avete visto avete visto che gioconda tecnico tattica la juve veramente deludente almeno un gol voglio dire almeno un gol anche per andare a cesellare il pronostolo potevi fare no invece popola juve giù in un sacco sembrava una una banda di ragazzini messa in campo a cercare di fare il meno peggio ad una certa è diventato uno squilibrio ingiustificabile tra le tra le due parti ripeto vittoria importantissima per il milan per come è arrivata a livello tattico per il cambio schema e per e per la sensazione che ne ricavi dopo sta gara sconfitta grave per la juventus per come è arrivata per il momento che la juventus stava attraversando lasciate like condividete fatevi una doccia di flow della live di ieri e a domani ciao